Sono Nicolás Reglionigi e ho finito, ormai tre anni fa, il liceo scientifico GB Grassi a Saronno e ho frequentato appunto Scienze Applicate, mentre attualmente sto terminando il mio percorso di studi triennale presso la LIUK nell'indirizzo di management e imprenditorialità. In Lati ho avuto la possibilità di essere executive intern, quindi di essere di fatto assistente di direzione e ho aiutato Ilenia e l'area marketing nella realizzazione del Sales Meeting 2022 e durante anche il Sales Meeting ho avuto la possibilità di presentare, insieme a Gabriele Ciovati e la dottoressa Michela Conterno, Lati come società Benefit. Lati la definirei sicuramente accogliente, in quanto in questi tre mesi qui durante il mio stage ho avuto la possibilità di parlare con diverse persone, sono stati in tutti molto gentili, soprattutto anche nell'aiutarmi a fare la mia tesi di laurea e a rispondere a tutte le domande che avevo. La definirei anche dinamica per tutte le iniziative che Lati fa e per tutti anche i progetti che Lati permette di attuare. E infine la definirei fiduciosa nel futuro e lo stage che ho fatto ne è un po' la prova, quindi il fatto che Lati crede molto nei giovani e nei nostri percorsi. L'anno prossimo, in seguito appunto alla laurea triennale, andrò sei mesi in Olanda, vicino ad Amsterdam, per il mio programma Erasmus e continuerò la magistrale sempre in Luke nel percorso International Business Management in lingua inglese. La curiosità forse principale su di me è che sono un grande appassionato di auto e di motori ed è da ormai sei anni che è parte della mia quotidianità. Grazie. Grazie a tutti.